E' fottutamente pazzesco. Sei già quello che devi fare. E' lì, dove cazzo credi di andare? Torni subito qui! Non muovete a darci quello che ti amiamo chiesto! E' il primo che fa una mossa sbagliata, soltanto prova a fiatare! Si ritrova un bel fracavallo sulla fronte! L'avete fatto! L'avete fatto! L'avete fatto! L'avete in moto cazzo! E voi che cazzo siete? Lavoravo per loro. Sono una società segreta specializzata nella creazione di armi chimiche e batteriologiche. Molte malattie sono state create e diffuse da loro. E mi dica signorina, queste persone erano con loro? No! No! Allora? Hai finito? Erano rimaste due scelte! Quale sarebbe l'ultima?! Che vi uccidiamo tutti! Chiunque sia stato assaggerà la mia ira. Chiunque sia stato assaggerato. Grazie.